E' stato fatto più in un anno di amministrazione Pardini che in dieci anni di centrosinistra. E' questo lo slogan adottato da Forza Italia per riassumere un anno di governo di centrodestra a Lucca. Turismo, mobilità, mura urbana e sanità e giovani. Tutti i provvedimenti del primo anno di Pardini sono stati sviscerati oggi, 21 luglio, durante una conferenza stampa che ha visto anche la presenza dell'onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini e del coordinatore regionale Marco Stella, che hanno lanciato la lunga campagna elettorale verso le elezioni regionali del 2025 mettendo al centro la sanità. Forza Italia, inoltre, ha fissato una priorità per il secondo anno di mandato di Pardini, il futuro dell'ex manifattura. Sì, la manifattura è stato uno dei temi che ha visto l'opposizione di centrodestra protagonista. E' stata la prima grande vittoria dopo 8 anni di sofferenza e è stato il primo step che ha portato poi il centrodestra a vincere queste elezioni amministrative. Passate e tutto grazie al gran lavoro svolto all'opposizione dall'allora consigliere Santini e Di Vito. Quindi la manifattura per noi è una priorità e ci sono in ballo un paio di progetti interessanti insieme al sindaco e li valuteremo e poi quando sarà il momento annunceremo a tutta la città cosa faremo e come soprattutto lo metteremo efficacemente a terra.